Sarà il Gaetano Bonolis di Teramo ad ospitare domenica 12 maggio alle ore 18 la sfida play-out di andata tra Monterosi e Potenza, gara che il gruppo editoriale distante trasmetterà in diretta e in chiaro con un ampio pre- e post-partita su Teleregione, canale 77 del Digitale Terrestre. 850 per adesso i tagliandi messi a disposizione dei tifosi rosso-blu che attendono con ansia gli ultimi 180 minuti di una stagione complicata che ha visto piombare il leone rampante nel limbo dei play-out all'ultima giornata della regular season. Gli stati di animi sono un po' contrastanti perché negli ultimi incontri non è che ci hanno dato una speranza proprio netta di dover lottare per evitare i play-out. Certamente tutta la tifoseria è fiduciosa perché sta cercando di esortare al più possibile i giocatori, la società, tutto l'ambiente affinché si combatti e cerchi questa benedetta salvezza. L'aspettativa logicamente è quella di salvarci e quindi di fare un risultato positivo a Teramo. Ma sai, andare a fare i play-out senza essere stato mai nei play-out durante il campionato è una cosa inverosimile. Purtroppo, bisogna dire la verità, tanto di cappello al presidente Macchia, al figlio, però ci siamo trovati tutti quanti da un zono profondo perché nessuno si è reso conto dei reali pericoli che potevano andare incontro.